Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti prosegue le iniziative di collaborazione con gli enti della provincia teatina nell'attività di prevenzione e contrasto degli illeciti economico-finanziari a garanzia della legalità e trasparenza nella pubblica amministrazione. È stato sottoscritto in particolare un protocollo d'intesa tra il Comando Provinciale della Finanza di Chieti e la provincia di Chieti finalizzato al contrasto delle violazioni connesse alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR. Opere appaltate in provincia nel solo 2023 per l'edilizia scolastica e la viabilità per 33 milioni di euro e stamani alla presenza del colonnello Michele Iadarola e del presidente della provincia di Chieti Francesco Menna è stato siglato questo protocollo d'intesa destinato a rendere efficace il perseguimento e la corretta attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma intanto grazie al gigantesco lavoro della Guardia di Finanza, della Prefettura e delle Forze dell'Ordine in generale lo scopo è quello di incrociare i dati, di creare una massima collaborazione istituzionale tra provincia, uffici pubblici, Guardia di Finanza e naturalmente il giusto uso delle risorse del PNRR e degli appalti pubblici. Quindi regolamentare bene gli appalti pubblici, i contratti, le forniture, far sì che sia e vi sia prevenzione rispetto ai fenomeni corruttivi, che ci sia buon andamento della pubblica amministrazione, che ci sia sano uso delle risorse pubbliche ed europee. E' questa una stagione straordinaria per l'Europa e per l'Italia dal punto di vista delle risorse, degli appalti, milioni e milioni di euro che sicuramente non possono essere appannaggio della criminalità o delle cosche, ma devono essere spesi, bespesi attraverso la promozione di appalti pubblici trasparenti, chiari, onesti, ma soprattutto attraverso aziende serie e oneste che operano sul territorio. La nostra attività adesso sta soprattutto nel verificare la correttezza dell'utilizzo e quindi verificare passo passo come questo impiego delle risorse sia sempre rispettoso nei termini dei pagamenti o anche delle varie imprese che subentrano magari nell'effettuazione dell'attività o che magari possano riguardare anche soggetti diversi magari da quelli che hanno effettivamente sottoscritto il contratto e che in qualche maniera possono gestire o essere gestiti da consorsi di natura criminale.